vedere all'opera un business agile è bellissimo perché un business agile non reagisce ai cambiamenti ma li fa propri adattando velocità e scalabilità alle nuove opportunità come si trova il perfetto equilibrio tra investimenti e risultati per innovare rapidamente serve uniti che supporti la trasformazione di idee in realtà redditizi l'automazione è la colonna portante per rendere possibile questo tipo di agilità le soluzioni cia automica automation automatizzano i processi di business e consentono alle risorse di concentrarsi sulla crescita usano una piattaforma di automazione unificata aperta e scalabile nell'intero ciclo di vita delle applicazioni e controllano costantemente l'esecuzione dei processi di business in ambienti mainframe cloud o ibridi anche durante gli aggiornamenti il portfoglio cia atomic include tre prodotti leader basati su una straordinaria piattaforma di automazione multi tenant primo cia atomic workload automation è un prodotto enterprise che offre operation continue gestendo centralmente l'esecuzione dei processi vari ambienti essenzialmente fa sì che l'it sia sempre attivo secondo cia atomic release automation è progettato per la continuous delivery con automazione e orchestrazione nell'intera tool chain devops e semplifica sviluppo test e deployment rapidi e agile di applicazioni di business nuove occorre e terzo per la continuità dei servizi cia atomic service orchestration consente di orchestrare i processi di business in ambienti cloud ibridi e offre un controllo rapido e agile di tutto da devops a risoluzione service desk business continuity in ogni condizione ambienti di test completi e onboarding di clienti con cia atomic one automation platform ciò che prima richiedeva settimane o mesi si riduce a ore o giorni da strumento di back office l'automazione è diventata un'abilità del business che favorisce l'agility e consente all'iti di offrire nuove modalità di digital transformation